Quando i compagni dicono basta, basta, Tato invece aveva cercato di suscitare un applauso per incoraggiarla. E' vinto, è vinto, è vinto, è vinto, è vinto! Quando ho visto che veniva portato giù dal palco ho capito che c'era qualcosa di molto molto grave. Il ricordo è una presenza fitta ma silenziosa. Quella che era una piccola folla è diventata in pochissimo tempo una moltitudine di persone. L'onorevole signorico Berlinguer è mancato di vivere alle 12.45. La gente ruba il percorso, piangeva. Vuoto incolmabile. La cosa che ci univa era che percepivamo insostituibile Enrico Berlinguer. Grazie a tutti. Grazie a tutti